forza ragazzi eccoci qua allora buonasera post partita di ferrentina 20 finita 2 a 1 allora questa partita valletta divisa in due come la ferrentina ultimamente ci ha abituato negli ultimi anni cioè ben un tempo maluccio il secondo insomma era importante vincere io avrei preferito non subire gol anche se la regola un esiste più del doppio gol in trasferta però sicuramente piglia gol e vincere solo 2 a 1 in casa visto anche il 20 del secondo tempo ti mette un po d'apprensione insomma alla fine un pochino di di culino e ci è venuto un po a tutti bisogna essere onesto comunque adesso andremo anche a parlare un po di questa ferrentina in versione europea finalmente siamo tornati comunque a giocare all'europa prima di tutto vi invito a iscrivervi al mio canale youtube ragazzi come sempre sostenetemi anche sugli altri miei social trovate qua sotto il link in descrizione di instagram e facebook in questo video ragazzi vi chiedo tanti like se avete piacere commentatelo e condividete ragazzi ditemi anche il vostro migliore in campo il vostro peggiore in campo della ferrentina allora ragazzi ripeto il risultato ferrentina 20 2 a 1 va a segno gonzalez dopo 60 secondi che sicuramente avvia un primo tempo dove il 20 sicuramente è stata poca cosa grazie anche alla ferrentina che ha pressato alta ha sempre giocato sulle seconde palle ha sempre giocato sui contrasti e sempre ha sempre cercato di tenere il pallino del gioco e quando l'ha fatto nel primo tempo il 20 rispetto alla ferrentina era poca cosa bisogna essere onesti segna anche artur cabral the king artur cabral sono molto contento in una bella azione una bella scivolata insomma di rapina da attaccante cattivo insomma che ne approfitta insomma la ferrentina primo tempo mi è piaciuta particolarmente mi sono piaciuti veramente tutti dopo vi darò anche un po di pagelle ovviamente perché farò tutto pagelle e post partita in questo video mentre nel secondo tempo la ferrentina cala vistosamente anche per via del grosso di spendo energetico del primo tempo cala vistosamente viene fuori il 20 che riesce anche a fare il gol fuori gioco non fuori gioco io me lo sono un po rivisto ragazzi secondo me di pochissimo è in linea anche se poi italiano ha detto guarda era di poco poco in fuori gioco secondo me invece di poco poco l'era in linea perché mi sembrava più che milenkovic tenesse la linea non lo so e poi magari temi voi anche se pensate diversamente comunque alla fine della ferra il gol è stato convalidato la ferrentina porta a casa con un gol di scarto questa partita un tuente che nel secondo tempo ci ha messo un po di pressione anche perché sono calati vistosamente alcuni calciatori ovviamente perché comunque si è giocato tre giorni fa bisogna essere anche bisogna si è giocato quattro giorni fa bisogna essere anche connessi su questo la formazione per certi versi mi ha sorpreso anche stasera mi aspettavo altre forze in campo però ci sono state tante note positive poi italiano ha fatto un po una girandola di cambi sperando ovviamente di inserire nuove fresche e invece purtroppo il tuente invece ha preso palla sicuramente il tuente aveva più minutaggio nelle gambe perché lo sappiamo ha giocato molte più partite rispetto alla ferrentina ufficiali quindi dove c'è una pressione ci sono i tre punti in palio ci sono delle qualificazioni in palio quindi sicuramente il tuente partiva più avvantaggiato di noi e l'ho detto anche nel video di ieri nel prepartita a livello di forza fisica anche mentale ma soprattutto anche di tenuta atletica la ferrentina infatti è calata molto nel secondo tempo alcuni subentrati non mi sono piaciuti nell'atteggiamento ma ne approfondirò un pochino dopo però alla fine bisogna dire una cosa ragazzi bene ma non benissimo però era importante vincere era importante portarsi a casa questo primo tempo mettiamola così perché questa partita si gioca in doppia sfida quindi il primo tempo è a tinta e viola ovviamente ora testa all'empoli poi avremo modo di pensare ovviamente all'europa però la ferrentina è chiamata un tour de force in questa in questo inizio di stagione che ci accompagnerà fino a fine agosto quindi la ferrentina è chiamata anche a girare un po quindi italiano è giusto che abbia girato un po anche se poi venuti per esempio non voleva uscire dal campo però secondo me è giusto dare anche minutaggio a dodò perché tra venute dodò ragazzi il titolare del futuro sarà comunque dodò anche se ripeto in questa stagione se si porta avanti il più possibile tutte le competizioni qui e giocano tutti detto questo parlando invece e vi ho fatto un po insomma la mia opinione sul fatto del della ferrentina in campo che mi è piaciuto primo tempo non bene il secondo per niente non mi è piaciuta per niente l'atteggiamento del secondo calata vistosamente passiamo a il pagellone di mister viola dove a terracciano ragazzi gli diamo un 6 politico perché sull'intervento del gol non poteva fare niente comunque sicuro non riuscite sicuro ai piedi ha rischiato poco un 6 politico ai due centrali nastasic allora a nastasic gli voglio dare un 6 meno perché devo dire che è sempre stato un po il primo tempo ha fatto due o tre sbarioni a me mi sono piaciuti anche scelto un po così però alla fine del secondo tempo ha retto botto ha scaricato questi palloni infrarolaterali insomma c'è stato lì ha dato mano comunque alla difesa è un 6 meno non mi è piaciuto particolarmente nastasic però non mi sento di dargli un insufficiente mentre a milenkovic gli do tranquillamente un 6 più ha retto la difesa sul fatto del gol è la linea da quella quindi non gli voglio dare troppe colpe anche lui qualche rischio se le ha preso però devo dire che la in difesa è sempre stato un bel baluardo mi è piaciuto molto venuti venuti credo abbia fatto una grande partita di dispensio energetico gli diamo un bel 6 e mezzo mi è piaciuto la spinta mi è piaciuto in fase di non possesso mi è piaciuto anche in fase di recupero quindi insomma bravo venuti per quanto riguarda bidaghi anche lui non ha fatto una grandissima partita gli do un 6 un 6 tranquillo qualche punizione secondo me poteva gestirla un pochino meglio però detto questo ha fatto la sua partita sulla falsa riga della partita che ha fatto la cremonese insomma diciamo ha fatto il suo al centro campo voglio premiare subito sia male che amarabat amarabat ragazzi gli do un 7 più perché stasera è stato mostruoso se avesse fatto gol gli avrei dato 8 e mezzo perché amarabat ha recuperato palloni all'ottato è sempre stato su tutte le zone del campo ha giocato una miriade di palloni ha vinto una miriade di contrasti mi è piaciuto veramente tanto sta crescendo una maniera impressionante amarabat in questo luogo in questo ruolo mi è piaciuto anche ovviamente malè che anche se nel secondo tempo è calato vistosamente vista anche la punizione la munizione presa proprio perché si vedeva che era un era stanco era cotto però mi è piaciuto 7 meno perché comunque anche in qualche situazione poteva fare un pochino meglio bene duncan mi è piaciuto nel primo tempo per il minutaggio che gli ha concesso mister vicente italiano è un 6 più senza problemi anche lui nel primo tempo qualche qualche pensiero anche qualche tiro da fuori anche se non registrato benissimo l'ha fatto quindi sicuramente muscolarità centrocampo parlo ovviamente anche di mandragola visto che l'ha sostituito un ingresso così non mi è piaciuto tantissimo l'impatto di mandragola però ha lottato nella mischia non mi sento di dargli un'insufficienza gli do tranquillamente un 6 parlo ovviamente anche di dodò però non mi sento di dare un voto a dodò quindi per me è senza voto come senza voto anche qua me è entrato pochissimo ha giocato pochissimi minuti per quanto riguarda davanti sottile alta grande partita di spessore mi è piaciuto lamentare anche lui sulla situazione perché mi levi sto giocando bene anche lui gli do un bel 7 mi è piaciuto forse gli è mancato il gol e qualche guizzo in più vincente davanti però mi è piaciuto su Arthur Cabral ha fatto gol quindi sicuramente si prende anche lui nel primo tempo ha aiutato la squadra a salire non è che abbia questa grandissima tecnica sopraffinata ai piedi rispetto a Jovic però mi è piaciuto molto di più Cabral rispetto al minutaggio giocato da Jovic quindi a Cabral gli diamo tranquillamente un 7 premiato anche soprattutto per il gol che in qualche modo consolida questa vittoria per quanto riguarda la Fiorentina per quanto invece con Gen Niko González altra grande partita che mi è piaciuto qualche volta troppo solista però ha fatto gol ha sbloccato la gara un bel gol tra lato di testa un bello stacco aereo anche lui si prende un bel 7 più veramente ottima partita anche di Niko González Iconé non mi è piaciuto Iconé non mi è piaciuto per niente mi dispiace credo che il minutaggio che gli ha bellato italiano sia anche sufficiente per dargli un voto che per me non è sufficiente è un 5 e mezzo non mi è piaciuto per niente l'impatto di Iconé su questa partita come per esempio non mi è piaciuto per niente l'impatto di Jovic anche se poi alla fine qualche tecnica qualche giocata un pochino più interessante per recuperare palla per far salire la squadra per prendere delle punizioni interessanti l'ha fatto però non mi è piaciuto l'ho visto quasi appesantito non so se avete voi anche questa sensazione insomma a volte italiano gli diceva di pressare lui corricchiava insomma sei appena entrato dovresti essere un treno non mi è piaciuto l'ingresso di Jovic però diciamo diamogli un 6 meno anche per quei falli presi in maniera molto intelligente credo di aver detto tutti se non mi sbaglio ragazzi se mi manca qualcuno scrivetemelo pure voglio sapere i vostri commenti per chiudere questo video ragazzi il pagellone ve l'ho dato migliore in campo ovviamente Amrabat peggiore in campo per quello visto e per come si è presentato e non mi è piaciuto è un parolone dire peggiori in campo però non mi è piaciuto proprio l'ingresso l'idea è icone mi dispiace mi dispiace veramente dirlo devo essere onesto per quanto riguarda Fiorentina 2 tuente 1 la Fiorentina vince l'andata dei preliminari per l'accesso della conference league c'è sicuramente fiducia anche per il ritorno in terra olandese non sarà per niente facile perché il tuente in casa gioca bene e sicuramente sarà spinta anche il proprio pubblico che proverà a ribaltare questo risultato che secondo me avrebbe dovuto essere molto più tondo soprattutto per un primo tempo dove la Fiorentina di occasioni per segnare non ne ha avute soltanto due come sempre ragazzi forza viola ci vediamo in settimana per parlare ovviamente della sfida del debut perché ora è tornato e bisogna riparlare ovviamente di campionato è un rush in continuazione ragazzi forza viola ciao